Un verdissimo Riccardo Palludi è arrivato a un passo per strappare la supremazia ai rossi, poi forse l'ultimo temato non ha funzionato alla grande, però insomma un passo avanti dei verdi. È peccato perché queste partite a punteggio basso, chi fa il primo canestro vince. Purtroppo abbiamo avuto un paio d'occasioni, l'abbiamo sprecato e i bravi rossi sono stati più attenti nei momenti decisivi. Però ci riproveremo il prossimo anno, ho visto una squadra a Sonia, ho visto dei ragazzi che hanno voglia, quindi sono contentissimo in ogni caso. Ecco, quindi già il prossimo anno ci sarà un piazzale Michelangelo che cercherete di accontentare e di far godere i verdi, insomma questa cornice fantastica. Prima di tutto mi devono, io sono stato invitato, se verrò rinvitato accetterò di buon grado, però è chiaro che poi si proverà a me arrivare secondo, piace una volta, proviamo ai rossi a levargli questo titolo.